Benvenuti! Oggi realizzeremo una zucca per decorare le torte di Halloween o dei cupcakes a tè. Preparate la pasta di zucchero arancione e verde, basteranno questi due colori. Preparate la pasta di zucchero arancione e formate una palla, schiacciatela leggermente e con l'ausilio di uno strumento creiamo l'effetto di una zucca. Esercitate abbastanza pressione senza esagerare. Ecco fatto! Adesso con il verde Facciamo una base incollandola con dell'acqua. E per finire Create un cordoncino con la base un po' più largata. Ecco fatto! Adesso con dei cordoncini ancora più piccoli andiamo ad ultimare il lavoro. Arrecciateli in questa maniera. Che hanno dei boccoli! La nostra zucca è pronta! Facciamo una ricerca! St времite Qu aggrega di di vista